Una buona serata edizione delle 19 del nostro telegiornale che apriamo con il master plan e con il trasporto pubblico locale al collasso. Fornitori in attesa di essere pagati dalla regione per 29 milioni di euro e cultura abruzzese senza finanziamenti. Queste le denunce del centrodestra che parla di blef appunto del master plan Abruzzo e il servizio di Paolo Renzetti. Qualche tempo fa all'inizio della legislazione ci è stato presentato una situazione catastrofica rispetto al trasporto pubblico. Bisogna per forza fare questa nuova società TUA perché l'ex ARPA doveva portare i libri in tribunale. Poi veniamo a scoprire che abbiamo un buco enorme in TUA, ci sono 29 milioni di euro ai fornitori che non vengono pagati. Ma la cosa allucinante è che quei crediti che furono cancellati dicendo che non erano esigibili, che erano falsi, improvvisamente ricompaiono nei bilanci di TUA e vengono addirittura transati. Non sappiamo che cosa sta succedendo per quanto riguarda i fornitori. Una situazione drammatica, a dir poco, scandalosa, quella delle istituzioni culturali, dal Teatro Marruccino alla Giostra Cavalleresca al Bimillenario Ovidiano. Siamo arrivati a novembre del 2016, quando tutte le associazioni e istituzioni culturali erano sull'oro del fallimento. Grazie alla nostra sollecitazione esce una variazione di bilancio, vengono assegnati i fondi, siamo a fine giugno, non vengono ancora assegnati i fondi del 2016 in bilancio. Abbiamo zero per il 2017, insomma qui oramai la cultura in Abruzzo è in totale abbandono. Ci permettiamo di spendere soldi per inaugurare un ponte, che peraltro è di un'amministrazione comunale, e abbiamo tutti i cantieri fermi, i cantieri aperti con gli ex FSC, quelli famosi del Masterpad non decollano perché le convenzioni che venivano sottoscritte dal Presidente Alfonso illegittimamente sono state bloccate. Abbiamo accumulato richieste di fornitori e di terzi creditori per oltre 90 milioni di Euro nel bilancio regionale. È una situazione veramente drammatica, i dati lo sono ancora di più, addirittura cominciamo a avere per la prima volta da decenni cominciamo a avere anche dati negativi per quanto riguarda l'export dell'automobile. Credo che veramente qualcuno stia facendo precipitare l'economia di questa regione. Adesso ci spostiamo a Teramo. L'Ater annuncia che la spesa complessiva per riparare gli alloggi danneggiati dal sisma sarà di circa 70 milioni di Euro. In provincia sono 1140 le case Ater che sono state lesionate per la quasi totalità ubicate a Collaterrato di Teramo compresi 32 appartamenti costruiti appena nel 2013 e 500 famiglie sgomberate. Tania Bonnici Castelli. In provincia sono 1140 gli alloggi dell'Ater di Teramo danneggiati dagli ultimi eventi sismici di cui 845 sgomberati e ubicati per la quasi totalità nel quartiere Teramano di Colle Atterrato. Le cifre spaventano. Sono 500 le famiglie fuori casa e serviranno circa 70 milioni di Euro per ricostruire il patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater di Teramo che ha subito danni dal terremoto. Dati, stime e cronoprogramma sulle procedure tecniche di ricostruzione sono stati annunciati ufficialmente dall'ente Teramano alla cittadinanza. Restano però forti le perplessità di come sia stato possibile che anche i 32 alloggi popolari, sempre a Collaterrato, costruiti nel 2013 con tutti i criteri antisismici, si siano anch'essi lesionati. Dottor Rampini, ma com'è possibile che delle case del 2013 costruite con sistemi antisismici siano scoppiate letteralmente? Beh, scoppiate letteralmente no, perché comunque abbiamo fatto fare una verifica di vulnerabilità sismica dai tecnici incaricati che ci hanno riconsegnato giorni fa i risultati. Quindi dal punto di vista della struttura è sicura secondo l'ultima normativa del 2008 e che è adeguata. L'unico problema è che per quelle parti non strutturali non è stato eseguito in sintonia con la struttura quindi ha creato dei problemi per le parti strutturali che comunque a breve provvederemo subito alla riparazione. Quanto spenderete per riaggiustare questi alloggi? Una stima adesso si parla dai 300 ai 400 mila euro. Secondo voi queste case sono state costruite bene? Noi ci chiediamo come voi, visto che all'incirca il 50% di tutti i sgomberi risultano ater, pure noi ci chiediamo come cittadini ma è possibile che tra case private e case ater praticamente la grande maggioranza sono case ater. Ma le case sono state costruite bene? Io l'ho detto, per quanto riguarda i risultati qui supera lo stato limite della vita, supera l'uno e l'uno è il 18 mi hanno detto. Siccome la casa tua è piccoli lavori esterni in 20 giorni e un mese rientra a casa. E invece? Invece sono uscito il 14 gennaio ieri era, il 14 sono sei mesi. Quando rientreranno le persone dentro casa? Per quanto riguarda i 32 alloggi sarà il primo appalto che faremo quindi appena l'ufficio della ricostruzione ci approverà il progetto noi possiamo procedere all'appalto dei lavori. Adesso andiamo all'Aquila sempre per parlare di emergenza abitativa Sgomberi al progetto case entro domenica fuori tutti da Coppito 2 molte famiglie dicono no agli spostamenti lontani ma la dirigente dice che il comune non può farci nulla ci sono poche case libere. Daniela Rosore Entro metà luglio 150 persone dovranno abbandonare i progetti case e già da qualche giorno sono partite le operazioni di sgombero della piastra 2 a Coppito 2 questa andrà svuotata entro domenica secondo l'ordinanza comunale dello scorso 8 giugno a firma della dirigente del settore ricostruzione pubblica del comune Enrica De Paulis e del sindaco Massimo Cialente ovviamente e parallelamente si cercano alloggi vuoti all'interno del progetto case che possano ospitare presto gli abitanti delle piastre 13 e 14 di Pagliari di Sassa nella stessa ordinanza infatti sono previsti 20 giorni per sgomberare la piastra 14 un mese per la 13 in totale saranno 60 famiglie 150 persone a dover lasciare gli appartamenti del progetto case entro i primi 10 giorni di luglio la decisione è stata presa a seguito dei controlli dei tecnici degli uffici comunali dopo aver scoperto i difetti di costruzione in una piastra del quartiere case di Coppito 2 dove la ditta che ha eseguito i lavori 8 anni fa montò male evidentemente la guaina alla base dei pilasti di legno dopo lo sgombero delle prime 24 famiglie sempre a Coppito nella piastra 1 ora toccherà alle successive 60 la dirigente De Paulis ha assicurato che si rispetteranno i tempi previsti ma non si potrà dare la possibilità di scegliere alle persone la zona dell'alloggio alternativo ci sono stati infatti molti rifiuti e le case vuote ad oggi che sono poche si trovano soprattutto nella zona est tra Bazzana e Paganica la dirigente ha spiegato che nell'assegnare gli alloggi si darà priorità alle famiglie con disabili e con i bambini di età scolare gli altri dovranno accontentarsi i controlli comunque proseguiranno lungo tutto il perimetro dei fabbricati su tutte le 11 piastre realizzate con la stessa tipologia dell'impresa che ha costruito la palazzina di Coppito 2 è domenica a 5 mesi esatti dalla tragedia dell'hotel Rigopiano il comitato vittime di Rigopiano si radunerà presso la baita della sceriffa a pochi chilometri dal luogo del disastro per parlare delle prossime imminenti mosse in particolare si affronterà l'argomento del turismo macabro infatti vista la totale passività delle istituzioni nell'adottare misure che impediscano in modo efficace ai visitatori di accedere nell'area posta sotto sequestro è stato deciso di organizzare un servizio di ronda proprio da parte del comitato delle vittime di Rigopiano per sorvegliare questa area l'ordine degli ingegneri di Teramo non molla sul tema della sicurezza dell'acqua del Gran Sasso il presidente Alfonso Marcozzi rende note le risposte ottenute dalla regione dopo la richiesta di accesso agli atti per informazioni ambientali sul sistema idrico Teramano l'ordine degli ingegneri di Teramo non molla sull'acqua del Gran Sasso dopo aver avanzato una richiesta di accesso agli atti agli organi competenti per ottenere informazioni ambientali sull'approvvigionamento potabile del sistema idrico gestito dalla Ruzzoreti il presidente Alfonso Marcozzi polemizza sulle risposte ottenute e su quelle non pervenute va detto che ha risposto ha risposto la regione ieri siamo stati lì con il dirigente l'ingegnere Domenico Longhi che voglio ringraziare per la tempestività e per la chiarezza delle informazioni che ieri ci ha passato ha risposto l'AS per quello che poteva rispondere ma il soggetto più importante è quello che ci chiede soldi per erogare un servizio quello che dovrebbe assicurare che questo servizio sia tale a garantire la salute quindi che l'acqua abbia quelle caratteristiche nulla ci ha consegnato ma perché nulla ci ha consegnato molto in mente non certo forse per pigrizia forse perché devono tenere in caldo le poltrone o forse perché non conoscono il sistema quello che poi ieri nei fatti la regione ci ha documentato il sistema non è conosciuto ma questa è una sua supposizione? non è la mia supposizione è scritta nel documento che ci ha rimesso la regione avevano istituito una commissione sin dal 2002 quando ci fu quell'inquinamento importante e noi già allora facemmo accesso agli atti perché non è la prima volta che lo facciamo già allora seguimmo alcuni interventi quella commissione ha prodotto carta adesso ne viene introdotta un'altra commissione per fare che cosa? questo ci ha garantito Longhi e da questo punto di vista ci ha assicurato che da qui a qualche mese saremo nuovamente interpellati per capire come questo tassello comincia a costruirsi questo sistema delle conoscenze comincia a dare quelle corrette informazioni che in maniera predittiva devono salvaguardare quel bene primario che è l'acqua infine il presidente dell'ordine degli ingegneri un passaggio polemico lo riserva al lato di Teramo e a Lersi enti regionali preposti al controllo idrico su questo argomento va precisato che l'Ersi è nato come ente unico al fine di accorpare tutti gli atoprovinciali questi ultimi però per il momento sono ancora operativi e intanto l'ato e l'Ersi che cosa fanno? l'ato e gli Ersi riscaldano le sedie i bracci operativi della regione che dovevano intendere su questo processo non so negli anni cosa hanno fatto perché l'ato doveva preoccuparsi del sistema se fosse noto e il tipo di liquido quindi anche venisse erogato ai cittadini Lersi di nuova costituzione il braccio operativo mi sembra che sia al momento uno scatolone vuoto forse per ripartirsi qualche soldino a fine dell'anno Garabinieri della compagnia di Montesilvano coadivati dal locale comando di polizia municipale dal personale della capitaneria di Porto di Pescara hanno sgomberato il tratto di spiaggia libera antistante via Ariosso su cui erano accampati da giorni alcuni giovani di origini nordafricane l'operazione è disposta coordinata dal comando provinciale di Pescara censiti circa 17 giovani di colore di cui 10 irregolari per le operazioni sono stati impiegati 20 carabinieri 10 agenti del comando di polizia municipale di Montesilvano ed alcune unità della capitaneria di Pescara oltre a rimuovere le tende il comune di Montesilvano ha provveduto anche a ripulire l'intero tratto di spiaggia il Movimento 5 Stelle parla di pasticcio annunciato per il nuovo piano sociale regionale per alcuni comuni dell'area Vestina si parla di documento poco chiaro il consigliere regionale Domenico Pettinari presenterà in consiglio un'interrogazione all'assessore Marinella sclocco piano sociale regionale il Movimento 5 Stelle parla di un pasticcio di documento poco chiaro soprattutto per quanto riguarda alcuni comuni dell'area Vestina consigliere Pettinari perché? Sì un grande pasticcio che sta provocando cosa? La limitazione dell'erogazione dei servizi sociali all'utenza svantaggiata quindi vorrà dire che chi ha necessità di assistenza domiciliare assistenza agli anziani trasporto disabili dei comuni di Penne e Colle Corvino potranno molto probabilmente vedere nei propri mesi limitato questo servizio è un dramma ci siamo subito attivati abbiamo presentato un'interrogazione all'assessore regionale sclocco ed Alfonso per chiedere eventualmente il commissariamento dell'ambito distrettuale Vestino perché non sta operando come dovrebbe ho scoperto una situazione drammatica in cui l'ambito sociale si stava ricostituendo stralciando i comuni di Penne e Colle Corvino quindi lasciando di fatto esclusi dall'ambito sociale questi due comuni che ripeto insieme compongono la gran parte degli abitanti del territorio Vestino quindi quello che noi chiediamo come ha annunciato anche Domenico Pettinari è che la regione seguendo la legge quindi il decreto legislativo 267 del 2000 e soprattutto il piano sanitario e sociale regionali che loro stessi hanno scritto applichi il suo potere sostitutivo e quindi non lasci che dei comuni vengano esclusi da quest'ambito sociale ma devono commissariare l'area e soprattutto devono vedere la situazione e quello che sta succedendo cosa e concludo gravissima è che fino ad oggi a tutte le sollecitazioni fatte dal segretario generale e dal comune di Penne l'assessore sclocco non ha mai risposto protesta di piazza questa mattina a San Giovanni Teatino con i dipendenti della partecipata SGT multiservizi che chiedono di non procedere allo smantellamento dell'azienda pubblica Alfredo Primante no alla chiusura del nido di infanzia comunale e allo smantellamento della SGT multiservizi e quanto ha ribadito con forza il corteo che si è radunato sotto il municipio di San Giovanni Teatino per chiedere al sindaco Marinucci di non esternalizzare i servizi i dipendenti della SGT multiservizi sono in stato di agitazione dallo scorso 6 giugno quando in una riunione il sindaco ha ribadito la volontà dell'amministrazione comunale di chiudere la gestione pubblica del nido d'infanzia di procedere all'affidamento esterno del servizio di trasporto scolastico e verde pubblico di affidare alla SGT nuoto la gestione di tutti gli impianti sportivi e di proseguire con il project financing del cimitero il primo cittadino ha motivato la scelta con i mancati trasferimenti da parte dello Stato ritardi che non sfungono ai sindacati che però non ci stanno e lamentano il ritardo con cui è stata affrontata la questione sono a rischio i posti di lavoro di tutte le lavoratrici del nido ma qui il problema oltre che occupazionale è un problema sociale nel senso che si priva un territorio come quello di San Giovanni Teatino dell'unica struttura pubblica un nido di eccellenza al cui interno ci sono elevate professionalità che da anni danno un servizio di livello superiore a quello che troviamo sul territorio in un momento in cui c'è richiesta di servizi c'è richiesta e anche le norme sui servizi alla prima infanzia stanno cambiando questa amministrazione sceglie di privatizzare questo servizio il sindaco ci ha detto che questa è una scelta dettata dai tagli del governo se così è chiediamo al sindaco di scendere in piazza insieme a noi perché questo servizio è un servizio di tutti i cittadini e quindi lui rappresenta tutti i cittadini di questo territorio noi ci appelliamo a tutto il territorio a tutte le istituzioni come abbiamo già fatto perché si preservi questa bella realtà pubblica che dà un buon servizio adesso una buona notizia l'esito degli ultimi prelievi Arta restituisce piena balneabilità a tutta la costa di Pescara il comune rende noto infatti che sono conformi i valori anche su via Balilla l'assessore Loredana Scotolati annuncia che stamani sarà inviata alla regione la richiesta di autorizzazione a rimuovere i divieti anche su quel tratto l'unico ancora interessato dal divieto temporaneo di balneazione porte aperte alla fabbrica Saila di Silvi che festeggia gli 80 anni di vita la fabbrica di caramelle alla liquirizia e alla menta ha organizzato un ricco cartellone di eventi che proseguiranno per tutta l'estate con l'obiettivo di festeggiare la comunità silvarola circondati dall'odore intenso di liquirizia e menta il nostro viaggio all'interno dello stabilimento Saila di Silvi inizia dalle radici di liquirizia se 80 anni fa arrivavano dalle colline intorno a Silvi oggi provengono da altre parti d'Italia ma l'atmosfera che si respira è simile a quella dei primi del Novecento le radici vengono selezionate per dare il via al processo di trasformazione in liquirizia prima la pasta poi i lunghissimi bastoncini pronti ad essere tagliati e confezionati lo stabilimento di Silvi ha aperto le sue porte in occasione dell'ottantesimo compleanno una fabbrica che è diventato un simbolo della comunità silvarola perché ne rappresenta contemporaneamente il passato e il futuro con i suoi 50 dipendenti questa mattina in occasione del porte aperte delle visite guidate per le famiglie dei dipendenti è stata inaugurata anche la mostra fotografica che ripercorre la storia della società anonima italiana liquirizia bruzzese nata nel 1937 da Aurelio Menozzi e Angelo Barabaschi ed oggi parte della multinazionale svedese Cloetta una giornata speciale una giornata annunciata qualche mese fa nella quale vede partecipare tutti i dipendenti i loro familiari i bambini una giornata di gioia finalmente la fabbrica apre le porte fa vedere cosa fa una fabbrica che basa tutto il suo successo sulla qualità la qualità e la trasformazione naturale della liquirizia ma principalmente la gioia dei lavoratori la passione per i lavoratori per questa fabbrica la passione per Saila che cosa avete organizzato oggi? oggi è una giornata che vede innanzitutto la visita di quello che noi abbiamo chiamato le porte aperte nella quale è una visita esperienziale un museo nel quale il visitatore può raccogliere sia la storia di Saila che le emozioni di quelle che sono le ingredientistiche naturali di Saila il processo di Saila dopodiché il visitatore visiterà la fabbrica visiterà la fabbrica in azione c'è operativa quindi i dipendenti potrà conoscere i dipendenti potrà stringere la mano ai dipendenti e quindi poi abbiamo anche organizzato uno spaccio che si chiama Pop Up Store un temporary store nel quale il visitatore chiunque può comprare i nostri prodotti anche dei prodotti speciali fatti e realizzati apposta per questa giornata all'Aquila ha chiuso il Welcome Point in Piazza Duomo i turisti si lamentano ma la società che gestisce risponde a una struttura privata e non comunale abbiamo difficoltà per i costi di fatto dunque per il turista che raggiunge l'Aquila non ha più punti di riferimento qualche turista a spasso per l'Aquila ma il Welcome Point in Piazza Duomo che dovrebbe essere il punto informativo proprio a disposizione dei turisti per dare cartine per dare anche delle informazioni utili per visitare la città è chiuso come vedete è una questione questa che purtroppo si trascina da anni e che però è difficile da accettare in un capoluogo di regione che pian piano con tante difficoltà e a piccoli passi sta tentando di rinascere una struttura chiusa da tempo di proprietà del Consorzio Commercianti del Centro Storico dell'Aquila gestita egregiamente quando è servito dall'Agenzia di Viaggio del Touring Club italiano un'attività dunque privata e non comunale struttura di cui più volte ci siamo occupati dal momento che troppo spesso i turisti che giungono all'Aquila la trovano chiusa eppure dovrebbe essere un servizio importante di informazione di riferimento per alberghi escursioni e anche ora che l'estate ancora non entra nel vivo nel fine settimana c'è movimento turistico ma il Welcome Point è chiuso il direttore del Welcome Point ha già spiegato che l'apertura è stabilita dalla loro agenzia in valutazione dei costi e delle opportunità anche per retribuire il personale che vi opera si tratta insomma in piena regola di un servizio privato e nonostante le prove di dialogo con l'amministrazione alla fine tutto è rimasto evidentemente così insomma si capisce che pur volendo non si è nelle condizioni spesso di aprire per difficoltà economiche il Welcome Point dovrebbe essere in futuro al centro del progetto di Invitalia per il rilancio del centro storico forse quella sì potrebbe essere un'opportunità ma comunque all'Aquila un punto informativo funzionante dovrebbe esserci perché sia un capoluogo di regione perché vengono comunque i turisti insomma una situazione questa che appare inaccettabile e più Teramo invece si prepara ad ospitare la festa della musica si parte domani 17 giugno siamo riusciti a mettere su un programma che ci sembra interessante per dare vitalità in questi tre giorni al centro storico della città il club della manifestazione sarà il 21 con tutta una serie di concerti diffusi per la città ci teniamo a sottolineare il fatto che ci saranno queste due aperture alle 17 presso l'ospedale civile di Teramo e alle 18 presso il palazzo Melatino sede della fondazione Tercas sarà una giornata di musica incentrata abbiamo voluto dare il nome Donne Summer per richiamare l'artista alla famosa artista ma anche per dare un significato un valore aggiunto perché sarà incernato soprattutto sulla donna su artiste femminili quindi quasi tutte le band saranno caratterizzate dalla presenza di donne musiciste e cantanti e abbracere tutti i tipi e generi musicali quindi sarà una serata dalle 18 fino a notte inoltrata per tutto il centro della città si chiuderà il 24 a Colle Parco con anche lì sempre nello stesso format musicisti per tutta la serata e adesso apriamo la pagina di sport iniziamo dal Pescara ovviamente dal mercato perché Spal e Benevento due squadre che sono state promosse in Serie A sembrano aver messo gli occhi sul portiere biancazzurro Vincenzo Fiorillo la cui permanenza in rival adriatico dunque non è così scontata anche il capitano Ledyan Memouchay potrebbe lasciare l'Abruzzo sulle sue tracce ci sono Sion e i francesi del Lille il servizio di Andrea Costantini Vincenzo Fiorillo interessa ad alcune squadre di Serie A in particolare sono due neopromosse come Spal Benevento che stanno strizzando l'occhiolino all'estremo difensore genovese entrambe le compagini hanno perso i numeri uno della promozione la squadra estense non riavrà Meret tornato all'Udinese per fine prestito gli stregoni hanno vinto i playoff e salutato subito Alessio Cragno partito con la Under 21 e poi destinato a rientrare alla base al Cagliari Fiorillo si è ben comportato nell'ultima parte di campionato quando ha preso il posto di Bizzarri a Benevento peraltro ritroverebbe Baroni che lo ha allenato a Pescara inutile dire che Fiorillo come più volte da lui stesso ha messo a Pescara sta benissimo ed è pronto a ripartire dalla cadetteria con Zeman ma se dovesse arrivare un affondo di una di queste squadre sarà lecito pensarci su sempre ricordando che il rival Adriatico per fine prestito rientrerà Pigliacelli per Albano Bizzarri il futuro si chiama Udinese dove affiancherà il giovane Scuffet mentre Meret potrebbe essere ceduto al Napoli in bilico anche il futuro di Memuschali dopo quello del Bologna le ultime giornate hanno portato in auge l'interesse di un paio di società estere come gli svizzeri del Sion e i francesi del Lille anche il centrocampista albanese e capitano Biancazzurro sta a Benone in rival Adriatico non avrebbe problemi a ripartire dalla B ed ha un contratto con Scadenza 2021 andrà via solo di fronte a due fattori concomitanti una buona offerta e l'eventuale decisione di Zeman di escluderlo dal progetto tecnico chi non ci sarà sicuramente nella prossima stagione è Alberto Girardino il centroavanti che ha giocato pochissimo per via degli infortuni ha ricevuto un'offerta dalla Cremonese ne ho promosso in B ma aspetta l'epilogo dei playoff di Lega Pro e in caso di promozione del Parma potrebbe tornare nella piazza che lo ha lanciato nel grande calcio sul fronte entrate come già detto è fatta per i giovani Andrea Palazzi in presidio dell'Inter Cristian Capone ed Emanuele Lattelatte entrambi in presidio dall'Atalanta sembra in discesa anche la strada per Simone Andrea Gantz visto che il Verona non sembra intenzionato a esercitare il riscatto nei confronti della Juventus e nel Lega Pro da ieri è ufficiale l'arrivo di Antonino Asta sulla panchina del Teramo contratto di un anno con opzione per il secondo e adesso il diavolo può iniziare a muovere i primi passi sul mercato Antonino Asta è il nuovo allenatore del Teramo da ieri c'è anche il crisma dell'ufficialità per una trattativa che nemmeno nei momenti più critici era mai stata davvero messa in discussione l'allenatore era il profilo preferito e scelto per rilanciare una squadra che in una stagione ha bruciato quattro gestioni tecniche senza ottenere grandi risultati per il tecnico originario di Alcamo un accordo di un anno con eventuale opzione per la seconda annata nel caso in cui le cose dovessero andare per il verso giusto la fumata bianca nel pomeriggio di ieri dopo l'incontro a Roma tappa intermedia che ha portato la dirigenza del Teramo al contatto diretto con Asta e il suo procuratore prima di stirare l'accordo e ripartire ognuno verso casa con il tecnico che nello weekend preparerà la valigia e per poi partire lunedì verso Teramo e la sua nuova panchina sarà una stagione di rilancio anche per lui dopo le ultime esperienze non proprio positive il diavolo dal canto suo dopo la presentazione vorrà capire dall'allenatore come muoversi sul mercato per i nuovi acquisti ma soprattutto di quali elementi della rosa attuale può fare a meno per cercare di abbassare i costi di gestione in questo frangente davvero molto elevati dunque contratti alla mano il nuovo staff tecnico sarà alla prova per i prossimi 12 mesi sia Asta che Repetto infatti hanno firmato per un anno cosa che se da una parte può evitare il rischio di avere molti dipendenti a libro paga inevitabilmente pone Campitelli nella condizione di dover tornare subito sugli eventuali rinnovi nel momento in cui le cose dovessero girare per il verso giusto ma d'altronde la strada da battere era praticamente obbligata vista le ristrettezze economiche a cui andrà incontro il Teramo ad Asta e Repetto ora il compito di ridisegnare un organico che costi molto meno e renda decisamente di più e farlo presto perché a luglio si parte per il ritiro e i giorni di vacanza il Teramo li ha persi nel puzzle dei nomi e degli incastri da lunedì dunque si parte di corsa sperando di non sbagliare nulla o quasi stracolma la tribuna della piscina le naia di di Pescara due sere fa per la gara amichevole tra i nazionali di pallanuoto di Italia e Giappone gli azzurri di Sandro Campagna si sono imposti 15 a 12 tra i protagonisti anche un pescarese doc come Francesco Di Fulvio che ascoltiamo al microfono di Paolo Sinibaldi va bene Francesco Di Fulvio qui le parole forse non servono no non servono perché basta basta vedere questa piscina la partita che abbiamo fatto è stata per me un'emozione unica emozione unica e grande partita anche tua no tutto sommato era una partita di allenamento però qualche golletto lo hai fatto avete ultimato la preparazione in vista di quello che è uno degli obiettivi stagionali che giudizio ti dai dell'amichevole ma è stata un'ottima amichevole la rivedremo sicuramente quello che abbiamo sbagliato soprattutto in difesa loro è una squadra abbastanza agile quindi è snervante giocare con loro ma detto ciò comunque ci insegna alcuni movimenti che che potremmo fare per affrontare altre altre nazioni un po' più forti e poi quello che è successo tra il secondo e il terzo tempo striscioni che neanche allo stadio emozioni perché la calottina numero due del passato mitica di Marco D'Altrui che premia la calottina del futuro numero due della nazionale di Francesco Di Fulvio davanti al pubblico di Pescara racconta tu quello che hai provato sinceramente non ho parole ringrazio tutto il pubblico di Pescara ringrazio i miei genitori i genitori dei ragazzi che fanno parlato qui che hanno organizzato questa questa bella questa bella cosa è stata veramente un'emozione vedere questo striscione e comunque spero li abbiamo divertiti per questa partita ce lo fai anche tu un piccolo ricordo di Gabriele Pomiglio perché questa era anche la serata di Gabriele sì io me lo ricordo io l'impressione che ho quando penso a Gabriele vedo l'immagine che gioca a carte con mio padre a Scopa io quando ero piccolo li vedevo sempre giocare qui al bar qui sotto della piscina e mi divertivo proprio non giocavo perché ero piccolo comunque era mi divertivo proprio vederli giocare a Scopa fai un saluto ai pescaresi e ti lasciamo perché qui il bagno di folla non è finito caro Francesco no saluto tutti ho saluto questo splendido pubblico e spero di vederci l'anno prossimo forza ragazzi incitate Francesco e questo era il nostro ultimo servizio il nostro telegiornale torna questa sera alle 23 con l'edizione della notte per il momento è tutto grazie per l'attenzione buona serata grazie per la visione